Perché la 300 è subdola. Quando tu pensi che il pericolo si sia scampato, in realtà il pericolo c'è ancora. Eccolo qui. Questo cavallo, come dice il buon Andrea Stella, è un mostro. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Bantoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. Academy.bantoscacco.com Ci siamo, ci siamo ragazzi, siamo pronti a trecentizzarci. Iniziamo a fare un'apertura che uno non pensa, dice questo stavo utilizzando veramente la 300. No, e invece sì. E invece sì, ragazzi miei. Ragazzi miei, questa chiamasi difesa 300, detta anche questa è Sparta, per gli amici. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna cercare sulle sue spinte di chiudere. Questo è quello che dice la teoria, no? Lasciamo che sia lui a prendere l'iniziativa e poi si crea il gioco da solo. Vedi, adesso sono già creati dei piani interessanti, dei piani di gioco veramente interessanti che cercheremo di andare a utilizzare. Adesso lui vuole fare così, no? E lui pensa di aver risolto tutti i suoi problemi con questa mossa. Invece no. Invece no, perché arriverà questa, poi arriverà questa. Insomma, ci saranno cose, cose veramente, veramente al limite dell'immaginazione. Tu vuoi venire qui a sfondare? Io chiudo ancora. Non c'è problema. Questa però invece è un problema, per esempio, no? Quindi bisogna, bisogna essere pratici. Allo stesso tempo, speriamo che lui non veda questa, o peggio ancora, alfiere qui. Ma forse il cavallo dà ancora più fastidio. Speriamo che lui, io devo fare H3. Qualsiasi cosa lui non fa, eccola fatta. Bravo. Bravissimo. Ora, mi metti proprio l'acquolina in bocca con Torre G1. Guardate come lui pensa, perché dice, ma Dio, ma com'è possibile che questo tizio con questa difesa è riuscito a mettermi in crisi? Intanto un minuto e cinquantasei. Siccome stiamo giocando senza incremento, guardate cosa succederà al nostro amico Fritz. Qui intanto cerchiamo un raddoppio, qualcosa di strano. Noi possiamo fare anche così, così diamo un senso al nostro alfiere. Anche se questo alfiere un senso non ce l'ha, diceva qualcuno, cantava qualcuno. E poi arrivare in un finale. In un finale dove noi sappiamo che l'attività dei pezzi è importante. Bisogna capire che questi re sono attivi, o passivi, dipende, bisogna capire uno nella vita che cosa vuole essere e che cosa vuole fare nella sua vita, sì. Bisogna anche sperimentare, no? Cosa stiamo dicendo? Ma cosa stiamo dicendo? Dai, qui ormai siamo entrati, ragazzi, ormai non c'è più maschio-femmina. Qui c'è la teoria, ora c'è il gender fluid. Non lo sapete? C'è il gender fluid. Sì, ma sì, è antico maschio-femmina. Cioè, sono antichi quei ragionamenti che tu facevi con la tua moglie. Che nome gli diamo? Ma no, quando lui nasce si dà il nome che vuole. Se la sua prima parola è Oghiga, il bambino o la bambina si chiamerà Oghiga. Cioè, bisogna, ragazzi, bisogna rispettare anche le idee del bambino, no? Quel povero bambino si volerà chiamare Umberto? Non penso proprio che il bambino volesse chiamarsi Umberto. Quindi lo distruggete, se lo chiamate così. Lasciate che si chiami Oghiga. Secondo me è una cosa che può andare bene, no? Tu cosa fai? Soprattutto cosa vuoi con questi cavalli? Perché abbiamo capito che sei un tizio poco raccomandabile. E questo, diciamo che l'avevamo un po' capito tutti. Ora, quello che vogliamo capire è quanto sei poco raccomandabile. Perché questo è molto importante da capire. Ora, bisogna capire se catturare qui spinge... Uh, sento odore di qualcosa di bello. Lo faccio. C'è questa che è molto interessante. Questa è molto interessante. Questa è molto interessante. Molto, 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 molto interessante. Sono tante cose interessanti in questa posizione. Guardate il mio avversario come è lì che dice Oddio, adesso che cosa succederà mai nella mia vita? Intanto succede che, bammete, ti perdi così un alfiere gratis. Poi ci ritorniamo qui perché la 300 è subdola. Quando tu pensi che il pericolo si sia scampato, in realtà il pericolo c'è ancora. Eccolo qui. Questo cavallo, come dice il buon Andrea Stella, è un mostro. Il problema è che non potremo mai catturare qui, altrimenti perdiamo il cavallo. Però scacco, però è scacco, però è scacco. Però, sì, mi interessa più, onestamente, mi interessa più tenere... Adesso abbiamo anche il firetto qui. Che male non fa, male non fare, paura non avere, diceva mia nonna. E la saggezza delle nonne. E ora va catturato. Ora è il momento di catturare. Quando è che è il momento di catturare? Quando lui non può ricatturare. Questa è un po' la... Il, il, il... Tra l'altro c'era anche questa. Forse c'era dieci anni fa, non lo so. Non sto più vedendo nulla e perde per il tempo. Guardate la 300, la magia della 300. Allora, riguardiamola un attimino insieme, perché è importante capire che cosa è accaduto. Lui dirà, ma cosa sta utilizzando? Una sorta di difesa Owen a colori invertiti? E invece no. Zitto, zitto, il bianco che cosa fa? Sta per arroccare lungo con la variante d'assalto della difesa 300. Quindi, e qui purtroppo ho dovuto interrompere i miei piani, perché sapete che la 300, no? Sono tutti pedoni sulla terza traversa. Ho dovuto interrompere i miei piani per spingere. Ricordatevi, quando lui prende iniziativa, voi andate a chiudere. Si creeranno dei buchi. Fate attenzione, fate attenzione a questi attacchi. Perché poi il vostro avversario vi crederà degli sproveduti, no? Cioè, uno che utilizza un'apertura così vuol dire che non sa giocare a scacchi. Invece no. Re b1 significa che sa giocare a scacchi. Sì, lui cercherà attacchi, però poca roba. Voi riuscirete a difendervi, ma soprattutto regola incastrate. Dopo questa, sì, questa qui in effetti mi ha avuto un po' problemi, ma subito il gioco si è ribaltato, grazie al potere della 300. Questa si chiama batteria 300, direttamente contro il suo re. F5, subito per creare contatto con i suoi pedoni. Lui cerca di cambiare un po' i pezzi, ma voi cercate di mantenerli, perché voi dovete cercare di tenere il gioco complicato. E solo tenendo i pezzi potete tenere il gioco complicato. Bam, avampostone su E6, sorretto da pedone che sorregge al fiere. Questo è stato devastante. Perdita di pezzo, altre perdite, non si possono più contare le perdite. Si cattura, si cattura, bam, qui cadeva tutto, come minimo cadeva questo, cadeva questo, cadeva anche il cavallo in G7. Ragazzi, io provo ogni tanto a darvi delle riprove che questa 300 merita. Ci stanno per fare un manuale sulla 300. E quindi tutti questi video servono per coloro che andranno poi a scrivere il manuale, servono come modo per prendere spunti. Quindi potranno analizzare questa partita tra Mattosca contro Urs 62 e utilizzarla e rimarrà poi agli annali. Quando giorno l'uomo andrà su Marte, diranno, ma noi facciamo già la 300 nel 2020. Quindi, va bene, detto ciò ragazzi, lo so, vi giuro che non ho bevuto, sono così di mio. Mi raccomando, studiate la 300, utilizzate la 300, abbiate il culto per la 300 e ci vediamo nel prossimo video.